La vicenda dell'anziana cardiopatica e positiva al covid costretta a restare per oltre 40 ore in ambulanza prima di essere ricoverata in ospedale a Mercato San Severino continua a far discutere. Una vicenda che è l'ennesima e chiara fotografia del fallimento della sanità campana, il duro atto d'accusa del consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti. Per l'esponente politico si tratta di un fatto grave che testimonia le gravi carenze del sistema sanitario regionale a riprova della fallimentare azione di De Luca ha rincarato la dose Tommasetti, accuse ribadite anche dalle associazioni territoriali. Quello che è accaduto alla vecchietta di San Severino è un episodio vergognoso ma non è l'unico, credo che rispetto a questo bisogna finirla e tutte le istituzioni, dal prefetto, il presidente della regione, coloro che sono i responsabili di questa situazione devono mettersi al servizio della comunità. Per i rappresentanti dei lavoratori del comparto sanità è necessario sbloccare al più presto le assunzioni del personale che manca nelle strutture ospedaliere. C'è bisogno di una riorganizzazione della medicina territoriale, lo diciamo ormai da tempo, ormai gli ospedali non possono più sopportare ovviamente i tanti numeri che provengono dal territorio, codici bianchi, codici verdi, codici che potrebbero essere trattati appunto dalla medicina territoriale che dovrebbe fare da filtro per evitare l'ospedalizzazione, per evitare l'effetto collo di bottia all'interno del pronto soccorso. Noi stiamo chiedendo ovviamente più assunzioni perché per fare la medicina territoriale abbiamo sì bisogno delle strutture ma sicuramente abbiamo bisogno di personale qualificato e ovviamente di personale che venga assunto.